Salve, sono Carrassa Giovanni, vengo da Domodossola e avevo problemi di denti, ho visto questa pubblicità, li ho contattati e abbiamo parlato, mi hanno spiegato tutto e ho deciso di venire qui. Il prezzo è molto contenuto, sono venuto due volte, una per l'arcata inferiore e una per l'arcata superiore. Mi hanno fatto un bel lavoro e sono contento. Grazie autisti, grazie dottori, grazie a tutti.